Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo mio nuovo video, un saluto da Gigi ed oggi siamo qui ritornati su Clash Royale insieme a Grax. Un salutone dal vostro caro Grax. Ragazzoli siamo tornati nell'account di Gigi, quest'oggi per un evento molto speciale. Sì, diciamo speciale perché, come sapete voi in questi giorni, col fatto della mia inattività e tutto, ho avuto gli esami e come vi ho detto ho giocato pochissimo. E dato che anche in questi giorni che mi sto ancora riprendendo dall'esame e sto giocando poco, mi sono completamente dimenticato di aprire il baule costruibile. Cioè proprio non ci ho giocato questi giorni, perché voi questo video lo vedrete sabato, ma noi lo stiamo registrando... Mercoledì. Esatto. Verso, vabbè, le 5 del pomeriggio, vabbè, quello però poco conta, insomma. Quindi abbiamo aspettato tipo due giorni e mezzo e dato che lo stavo per registrare da solo, ho detto ma perché non invitiamo Grax e vediamo cosa succede insieme quando lo vai ad aprire in ritardo? Perché io credo che poche persone aspettino qualche giorno, insomma, per aprire il baule costruibile. Chi è che aspetta? Di solito si apre subito, perché comunque è un baule molto interessante, leggendario, chissà. Però questo si è invecchiato di tre giorni, cosa mai potrà contenere? Baule costruibile invecchiato. Comunque io, oltre ovviamente a dirvi che vi lascio in descrizione il link del canale di Grax, vi invito ad andare a vedere, oltre ad un suo video sempre, comunque vi lascerò un video che abbiamo fatto insieme sotto in descrizione, vi invito anche a rimanere attivi sul canale perché lunedì, lunedì... Tenetevi pronti. Tenetevi pronti perché abbiamo appena finito di registrare, venite di registrare questo, un video che non è che è epico, no. Quello che viene dopo. Cioè, di più, non so come definirlo ragazzini, lunedì non vi potete perdere quel video, quindi venitemi a seguire su Instagram, seguite anche Grax perché lì magari vi teniamo attivi su tutti i video, vi teniamo insomma aggiornati. E niente, vediamo cosa contiene. Doppio video, doppio video insieme a Gigi, fantastico. Speriamo che anche questo lo sia perché dobbiamo trovare una leggendaria. E oltre a leggendaria, dopo questo andremo anche a potenziare il domatore a livello 10. Io. Mamma mia, entrerà nel club dei mazzi con il domatore a livello 10. Perché Grax già ce l'ha. E quindi poi andremo a fare. È una bestia, è una bestia in tutti i sensi. La sradica la torre, la sradica, c'è poco da fare. E quindi poi andremo a fare una partita insieme con due domatori a livello 10. Yes. Comunque direi che è giunta l'ora. Vai con questa apertura. Andiamo ad aprire. Ovviamente ho fatto schifo sta stagione per colpa degli esami, ragazzi. Io non ho giocato tanto, quindi non siamo riusciti ad arrivare a 4600, ma solo a 4500. Però va bene. Ci sta. Andiamo, 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 andiamo. Ovviamente l'oro. E ok, ci farà comodo per dopo il domatore. Quindi ok. Ora, barbari scelti o goblin lanceri. Io i goblin lanceri non li ho praticamente mai utilizzati. Ultimamente li sto anche riutilizzando i barbari scelti, quindi direi che la scelta è ovvia. Bene. Barbari scelti. Prima scelta andata. Prima scelta andata. Dopodiché, bombardiera o lapide. Due carte che io non sto mai utilizzando ultimamente. Però se dovessi scegliere tra le due andrei con lapide. Che dici tu? Sì, cioè la bombardiera non esiste. Esatto. Non l'ho più vista contro. Che fine ha fatto? Sì, in caso è la bombardiera. Hashtag bombardiera chi l'ha visto? Comunque chi l'ha visto la torre bombardiera. E quindi andiamo di lapide, ragazzi. E ok. E io, purtroppo ce lo spoilerà, perché purtroppo ce lo spoilerà, ma vedo che dopo c'è una leggendaria. Perché adesso c'è tanto. Grappa leggendaria. Grappa leggendaria. La vado a prendere. Allora, sono tornato e ho la grappa già in mano, però devi scegliere ancora la carta, vero? Sì, abbiamo la strega normale, ovviamente, quella epica, e lo scheletro gigante. Io andrei di strega normale, anche se entrambe non è che l'ho potenziata più di tante. E adesso sto per cliccare. Vado? Che carta vuoi? Allora, io lo stregone elettrico. Tanta roba lo stregone. Lo stregone elettrico, ragazzi. Lo stregone elettrico. Vediamo se la grappa funziona anche a distanza, da qui a Roma ci sono 100 chilometri, vediamo. Sì, circa, quindi vediamo, vediamo, vediamo. Rotano in due, attenzione, attenzione. Ma ha trovato l'altro strego. Ha capito male. No, quello è ghiaccio. Ha capito male, evidentemente, il gioco. E tra l'altro un'altra, la carta che a me è perseguita da sempre, è la scintilla. Cioè, ho sei scintille del livello 3. Tra poco la posso portare al livello 4. Quindi, vabbè, mi sembra ovvio andare a prendere lo stregone di ghiaccio, ragazzi. Però, certo, già ce l'ho al livello 3, è abbastanza inutile, perché ne ho uno su dieci. Diciamo che l'influenza della grappa c'è stata. C'è stata. Perché grazie a questa grappa io ho trovato la mia prima leggendaria, ovvero lo stregone di ghiaccio. Lo stregone di ghiaccio, è vero, è vero, è vero, è vero. Che poi pure questo l'avevi trovato grazie alla grappa, o no? Sì, sì, cioè, no, la grappa è nata da quella leggendaria lì. Ah, ok, è vero, allora mi ricordo bene. E quindi sì, è vero. E poi comunque l'influenza c'è stata perché nello stregone l'abbiamo chiesto, solo che avevamo chiesto l'altro. Però, va bene, peccato, peccato. Però, vabbè, ci sta, insomma, non è che abbiamo trovato doppia scintilla. Pensami di farci adorare due scintille. Che tristenza, che tristenza. Allora, andiamo di bauli omaggio, perché giustamente so due giorni che non tocco sto gioco, posso aprire un po' di cose. Tra l'altro, altri barbari scelti ed altra lapide. Così. Guarda caso. Guarda caso. Andiamo col baule dorato, pipistrelli, gigante royale, gang di goblin, buonissima e mega sgarro, buonissimo. Baule d'oro, perfetto. Ci stava. E andiamo anche col baule magico a sto punto. Ce l'ho qui, pronto. Io in questo momento, diciamo, sono molto attivo nel gioco, sto praticamente nella mia schermata, pisto, non posso guardare niente, non so che carte stai trovando. E' brutta cosa, brutta cosa. Ti faccio il commento, come ho fatto prima. Vai. Allora, oro 1200. E ok. Ci serve per il domatore. Sei Tesla, che sta ancora a livello 7, non l'ho mai potenziata. Sette pipistrelli. E ok. Diciassette cannoni. Forse sono fine della comuni, ma non credo. Sette razzi. Sette razzi. Dai, non c'è la carta. No, per niente, perché altri... Sessantacinque sgherri, però. Vabbè. Vabbè, ci possono stare. Diciassette dei tre moschettieri, che... Mamma mia, che brutto sto baule magico, ragazzi. Osceno. E l'epica l'ha tornato. Che vabbè. Però... Via. Non è che cambia tanto quando la potenzi. È OP, però, vabbè. Bruttissimo. Quando ripetrai il video, Crax, capirai di quanto fa schifo. Perché tu te l'ho commentata, ma vederla è un'altra storia. Vederla è tutta un'altra storia, purtroppo. Un colpa al cuore, lo so, perché io trovo sempre pipistrelli, non trovo mai niente di buono, soprattutto nei magici. Ma la puoi sapere una cosa ancora più divertente? Ho aperto il negozio. Non mi dire i domatori. Ci stanno i domatori. Vabbè. Però io mo' che faccio? Quanti ne hai? Ma tu già lo puoi uppare? Sì, sì. Da mo' che lo posso uppare. Vabbè, comprali comunque, dai. Allora, prima lo potenzio. E poi vedo quanti ne posso comprare. Più che altro con le gemme lo dobbiamo fare. È quello il problema. Allora no, a questo punto non ti conviene. Vediamo, vediamo, vediamo. Allora, ho 1400 gemme e con 465 gemme lo potenziamo. E adesso insieme, ragazzi, lo andremo a potenziare. Eccolo qui, la prima rara a livello 10, il domatore. Insieme a Grax, ragazzi, che anche lui ha il domatore. Mamma mia, con la maglia Friox. Proprio a pennello, a pennello, ragazzi. A pennello, quindi capirai. Il top del top. No, allora è vero, a questo punto non mi conviene comprarmelo. Forse mi faccio qualche sfida grandiosa per conto mio e poi li compro per conto mio. Quasi sicuramente farò così, ragazzi. Quindi vi tengo aggiornati. Detto questo, ragazzi, ovviamente devo mettere un mazzo con il domatore. Che eccolo qui, ce l'ho. Pronto. Niente, quindi io ce l'ho. Possiamo partire quando vuoi. Sfida leggendaria. Domatore di livello 10 di Grax contro domatore di livello 10 di G. Esattamente. State pronti, tenetevi forte perché succederà il caos. Questa volta, però... Te la mando io? Sì, mandamela tu. Che mi vedi? Sì. Ok, perfetto. Allora vai. E scegliamo, ovviamente, la montagna cinghiale. Eh beh, ci mancherebbe. Un poco scontata. Poco scontata. Ok. Ecco qua. Sfida leggendaria. La vecchia arena leggendaria mi manca tanto. È vero, era bella, era bella, era bella, era bella. No, il bello è che qui abbiamo il domatore di livello 7, quindi averlo portato a livello 10... È stato inutile. È stato inutile. Però c'ha il suo perché, c'ha il suo perché. Non mi dire il mazzo fulmine che svengo. Allora, non te lo spoilero. Io lo odio. Vedremo. Fulmine, cavaliere. E no, invece, ragazzi, è qualcosa di diverso. Tornato, peggio, mi sento. Il domatore va diretto sulla torre. Bene, attivata. Sono contentissimo. E io sto scalando con questo deck, ti dico. È molto forte. È molto forte. Ci sta. Sono in tensione. Vediamo cosa succede. Vai, moschettiere. Pure la Goblin Gang. Questa non me l'aspettavo. È per forza. Allora, eh, quegli arcieri splittati non mi piacciono. Io però mi sto riempiendo di elisir. Devo sprecare questo domatore. Col cannone. Sì, per forza. Tanto io mi stavo riempiendo, quindi. Va bene così. Allora, nuovamente voglia. Vi servirà il miglior Grax per vincere, perché la Tornato fa male. Fa male contro il domatore. È tosta. Allora, un cavaliere è lì. Che ci sta. Che l'ho messo male. Andiamo anche col Mega Sgherro, ovviamente. Allora, ecco, il moschettiere non è che mi piaccia così tanto, eh. Ti dico la verità. Vediamo se ho fatto la mossa giusta. Dai. Tronchetto del... Uh, e questi da dove vengono fuori? Vengono fuori messi male. Sono venuti fuori male. Perché non hanno di peso, però mi hanno attaccato. Ok, siamo pari, però è tosta, ragazzi. Bella partita. Giocata malissimo, però volevo far fuori più che altro il moschettiere. Mi sono ritrovato un po' incappato nelle mie stesse mosse. Un mazzo molto offensivo. Io devo stare attento ai tuoi scacchi matti. Eh sì, perché posso vincere solo con quelli in questa partita. Allora, deviamo quello. Il ciccione. Mascherato. Allora, il Barbari Scelti non ce l'hai, però ce l'ha tornato. E hai anche il Mega Sgherro. E tra l'altro ho giocato anche male la torna... Ah no. No, no, vabbè, comunque... No, l'ha data una hit. Uh, mamma mia, mamma mia, mamma mia. L'ha hit l'ha data. Anche due, ne dava. Anche due. Deviamo questo. Lo salutiamo. Sì. Zap un po' maluccio. Sì, più che altro per prendere pure qui. Ah, aspetta, qui però no. Qui no, qui no. Ah, ce l'avevi? Porca miseria, ho sbagliato allora. Eh no, ma la torre l'hai presa. La torre l'hai presa. Non so... Ah, ok. Oddio. Questi fanno male. Ah, eh. Però... Tanta roba. Pensavo che stavi con poco i disirre, invece col cavolo. Eh, ma è un mazzo veloce. Non vorrei mandarti la palla di fuoco, mi sembra un po' scontato. Eh, però... Eh, ma tante annate, è andata, è andata, è andata, è andata. È andata, è andata, è andata, è andata. Il Master Point. Complimenti a Grax. Il maggiore esponente in Italia del Domatore, ovviamente, non poteva perdere con due deck col Domatore, ragazzi. È poco ma sicuro. Il Domatore oramai ci convivo, devo comprarmi una statuetta del Domatore. Ma tu da quando è uscito il gioco che giochi col Domatore o sbaglio? Solo Domatore. All'inizio non è vero perché giocavo addirittura con il Gigante. Vabbè, tutti all'inizio col Gigante, penso. Penso, quando ancora era pure in versione beta. Gigante è un po' strana, ma quando ho scoperto il Domatore dall'Arena 5, mi sembra. Eh, sì. Il Domatore è il primo amore, io non vedo l'ora di usarlo al 10. Invece dall'Arena 4, dalla pecca a Playhouse, ragazzi, libidine totale. Secondo me il Domatore dovrebbero farlo leggendario, giusto proprio così, in onore. Come quando lo trovi nei chest opening, meglio di una leggendaria. Sicuro proprio, io l'adoro. Quello è vero, quello è vero. No, io invece ti dirò, la carta che probabilmente ho utilizzato di più per fare i miei deck è stato il Golem. Con il Golem, cioè più che altro ho capito quando mi conviene difendere e quando mi conviene attaccare. Invece col Domatore devo ancora entrare nel giro. Mi trovo decisamente meglio col Golem. È un mazzo molto veloce, non è facile da capire, devi essere bravo a difenderti con poco elisir, così da usciare subito, velocemente, non dare all'avversario il tempo di difendersi. Esatto, esatto, esatto. Io invece so più lento a ragionare, quindi mi metto lì con il mio bel Golem, là ti lascio, ok, sì, vai, prendimi la torre, ma intanto io ti riparto di là che te ne faccio tre più che altro. Spesso è così, pure col Mastino ho fatti più o meno. Vabbè raga, voi fatemi sapere sotto nei commenti se invece poi vorreste un video con io da solo che mi godo il mio bel Domatore a livello 10, che adesso voi direte, Gigi, ma se il Domatore non lo usi spesso, perché l'hai portata al 10? Proprio perché adesso, eh? Adesso sto facendo un cenno che purtroppo Grax non può vedere, ma voi lo avete inteso, quindi raga, andiamo a sfondare tutto con il Domatore a livello 10. Si pusha in globale. Esattamente, esattamente, o se almeno raggiungiamo queste 4.600 e poi puntiamo anche alle 4.900, più in là. E niente raga, io vi ricordo in descrizione lascio i vari link di Grax, anche un video magari che abbiamo fatto insieme, il suo canale, vi ricordo che lunedì uscirà un altro video sempre sul mio canale insieme, che quello non ve lo potete perdere, quello non ve lo, cioè scrivetevelo sull'agenda da qualche parte, mettetevi la sveglia. Lunedì. Lunedì non ve lo potete perdere, dunque seguitici su Instagram, questi sono i nostri due profili, perché lì io comunque ve lo spammerò sicuramente, e poi comunque andate a seguire ovviamente anche Grax. E niente raga, detto questo, direi che possiamo anche finire qui il video, noi ci ritroviamo prossimamente qui sul mio canale. Ciao raga! Un salutone da Grax, ciao ragazzi! Ciao!